Come fare per avere successo? Semplice, fare una cosa sola. Cinque idee dal libro di Gary Keller e Jay Papasan. Se dai la caccia a due conigli, non ne prenderai nemmeno uno. Proverbio russo. Eh sì, questi russi la sanno proprio lunga. Date retta a una che ha studiato russo all'università come me e che ha conosciuto molti professori di questa nazionalità. E che dire, sono persone tutte ed un pezzo che non te le mandano a dire, ti dicono le cose così come stanno. Ho letto questo proverbio all'interno del libro Una Cosa Sola e mi è piaciuto molto. Lo ritengo davvero una grande verità. È chiaro, nella vita bisogna saper fare delle scelte, anzi, possibilmente, di scelte ne devi fare una sola. Se vuoi ottenere dei risultati davvero eccezionali. Sono Tatiana Berlaffa e mi definisco Mindful Digital Coach. Ti insegno a portare la mindfulness nella tua vita privata e anche nel lavoro per insegnarti a comunicare online in modo efficace, strategico, ma senza essere iperconnessa, che per me è molto importante. In questo canale ti parlo di libri di crescita personale, ma anche di mindfulness, di organizzazione nella vita e nel lavoro. E se ti interessano queste tematiche, ti consiglio di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie di essere qui. Ma torniamo al nostro libro Una Cosa Sola. Ho riletto questo libro durante il Mindful Book Club di settembre 2020 e mi ha colpita esattamente, se non di più, come la prima volta che lo avevo letto. In questo video ti voglio parlare delle 5 cose che mi sono piaciute di più all'interno di questo libro. Ne ho discusso già all'interno della discussione finale del Mindful Book Club con le ragazze che sono iscritte. Se vuoi puoi iscriverti anche tu, ti lascio all'interno del box descrizivo del video il link per partecipare. Così alle prossime discussioni potrai esserci anche tu e potrai darmi tanti spunti interessanti per parlare di libri di crescita personale che ci piacciono davvero tanto. Quindi mi raccomando, se vuoi essere dei nostri all'interno del Mindful Book Club, clicca nel link che ti metto nel box della descrizione del video e partecipa anche tu. Io non vedo l'ora e spero che saremo sempre sempre di più all'interno di questo Book Club. Allora, torniamo al nostro libro Una Cosa Sola. Questo è un libro che non ha mezze misure, è in perfetto stile americano e ti ripete più e più volte quello che forse in realtà avevamo capito già dalle prime righe, se non direttamente dal titolo. Nella vita, chi ha avuto successo, non si è dedicato a più cose contemporaneamente, ma ne ha scelta una e l'ha portata avanti fino in fondo. E così è riuscito ad avere dei risultati fantastici. Come sempre, ho scelto 5 concetti chiave del libro Una Cosa Sola e ho estrapolato anche 5 citazioni che ben li rappresentano. Alla fine del video scoprirai qual è il voto da 1 a 5 stelline che do a questo libro e ti svelerò anche il libro del prossimo Mindful Book Club, quindi il libro del prossimo mese, anzi dei prossimi due mesi, te lo anticipo già. Quindi non puoi perderti assolutamente tutte queste notizie, compreso il prossimo libro. Rimani fino alla fine. Allora, il primo concetto che mi ha colpito è che le nostre energie sono limitate. Abbiamo tempo ed energie limitate, così quando ci espandiamo finiamo per disperderci. Nella mia edizione è a pagina 14. E alzi la mano chi a volte non ha pensato di essere Wonder Woman e di poter riuscire a fare tante cose e bene contemporaneamente. Chi non ha mai detto, prendo anche quell'impegno, magari per compiacere un'altra persona, tanto ce la posso fare. Ecco, poi però di solito ci rendiamo conto che siamo sopraffatte, ci colpevolizziamo per non essere riusciti a far tutto e la verità è che proprio non ce la facciamo. È molto molto importante iniziare a dire questi no per il nostro bene e anche per il bene delle altre persone, perché comunque non riusciamo a fare le cose davvero come vorremmo e a farle in modo impeccabile, come forse ci piacerebbe. Per me è assolutamente difficile dire dei no, ci tengo a sottolinearlo, ma sto imparando. Una delle cose che mi ha aiutato è che non vedo più un no come un semplice no, ma lo vedo anche come un sì a qualcos'altro. Infatti la maggior parte delle volte è così. Ogni volta che noi diciamo un no, stiamo dicendo sì a qualcosa che in realtà vorremmo fare, che magari ci fa meglio e che poi ci potrà permettere di fare anche il resto in modo più rilassato e senza essere sopraffatte. Quindi ridurre le attività in realtà significa dare più attenzione a quelle, anzi a quella che davvero lo merita. Ad esempio anche a livello lavorativo, non possiamo dire di sì a tutti, non possiamo accettare tutti i clienti, non possiamo fare tutto. È molto importante cercare di capire quali sono le cose che ci portano più risultati e se riusciamo a capire qual è la vera e unica cosa che ci porta maggiori risultati su tutto, siamo davvero bravissime. Il secondo dei concetti del libro che mi è piaciuto particolarmente è no multitasking. Se fare la cosa più importante è la cosa più importante, perché sforzarsi di fare qualcos'altro allo stesso tempo? Anche questa è una citazione dal libro. Io ho già parlato in modo approfondito del multitasking all'interno di un altro video, ti consiglio di andarlo a guardare. Perché non possiamo fare due cose contemporaneamente? In realtà possiamo, purché una di queste rimanga sullo sfondo. Cioè noi possiamo essere concentrati solo su una cosa, il resto deve essere un po' in modalità automatica. Ad esempio io riesco benissimo, come tutti noi, a fare una passeggiata e ad ascoltare un audiolibro o ascoltare della musica, perché la mia mente è concentrata, nel caso dell'audiolibro, nell'ascolto. Camminare per me è un automatismo, quindi non ho difficoltà a fare queste due cose contemporaneamente. Diverso è quando pretendo di scrivere un articolo e di rispondere alle notifiche e ai messaggi sullo smartphone. Io non ho più notifiche e non faccio più questo errore di voler rispondere ai messaggi dello smartphone mentre faccio qualcos'altro. Però sappiamo che lo smartphone è una grandissima tentazione e ci siamo caduti tutti, molto spesso. È davvero deleterio questo, perché ci fa fare tutte e due le cose molto male. Invece di farci risparmiare tempo, ce lo fa perdere perché poi probabilmente dovremmo rifare quello che stavamo facendo. Il terzo concetto fondamentale è fai per prima la cosa più importante. Se volete ottenere il massimo dalla vostra giornata, fate subito il lavoro più importante, la vostra sola e unica cosa, prima che la forza di volontà si consumi. Anche questa è una citazione dal libro. La cosa più importante è la cosa più importante. Una volta stabilita quella, e solo noi possiamo dire a noi stessi qual è questa cosa in tutti gli ambiti, è da lì che dobbiamo partire per provare un senso di compiutezza che ci farà stare bene all'interno di tutta la nostra giornata. Ci farà dire che la nostra giornata è stata ben spesa. Ho spiegato, sempre in un altro video, il concetto di eat that frog e lo utilizzo quotidianamente quando, tra le tre attività della mia focus list, anche di questo ho parlato in un video, io scelgo quella che per me è fondamentale portare a termine durante la giornata. Una sola. E sai, una cosa funziona. La cosa più importante. Poi, poco a poco, vado avanti con le tre che ho individuato. Quando parto dalla cosa più importante e la concludo, io mi sento vittoriosa. Il resto della giornata è in discesa. La vita è una questione di priorità, diceva qualcuno. E aveva ragione. Il quarto concetto è che la vita è un gioco di equilibrismo. Immaginate che la vita sia un gioco di abilità con cinque palline. Le palline si chiamano lavoro, famiglia, salute, amici e integrità e dovete tenerle tutte sospese. Un giorno però capite che il lavoro è una pallina di gomma. Se la lasciate cadere, rimbalzerà. Le altre quattro palline, invece, cioè famiglia, salute, amici e integrità, sono di vetro. Se ne fate cadere una, si ammaccherà irrevocabilmente e potrebbe anche andare in frantumi. Anche questa è una citazione del libro che mi ha colpito molto. Se la vita è una questione di priorità, in realtà, è anche una questione di equilibrismo, quindi. Io dicevo che il lavoro non può ovviamente essere la cosa più importante, anche se io sono un po' una stacca novista, lo devo ammettere, quindi per me il lavoro è molto importante. Ma bisogna sempre rendersi conto che se non teniamo ben sospese anche le altre palline, cioè la famiglia, gli amici, la salute, quello ci porterà davvero ad avere gravissimi poi problemi e gravissime ripercussioni sul nostro equilibrio e sul nostro benessere. Quindi non ci può essere solo lavoro. Questo è un concetto interessante in un libro che parla di avere successo. Perché uno si aspetta che parli solamente di quello, mentre quando inizi a parlare di questi altri ambiti e a dire che è molto importante tenere in sospeso, come palline, o comunque tenere buone, in ottima salute, anche tutte le altre aree della nostra vita, questo mi colpisce ancora di più. Perché è un libro che non parla di quello in generale. Ma se lo dice un libro che si rivolge soprattutto ad avere successo e al lavoro, vuol dire che è proprio vero. Quindi la cosa migliore per cercare di sostenere tutte queste palline, il lavoro, ma non solo, è riuscire a godersi il viaggio e cercare quindi di avere i nostri obiettivi lavorativi, ma anche tenere in piedi tutto il resto. È difficile, sicuramente, ma non possiamo, a scapito della salute, ad esempio, dedicarci solo al lavoro. Questo per me è veramente importante. L'equilibrio vita-lavoro è una delle cose davvero a cui tengo di più. Un altro concetto davvero interessante di questo libro è pensa in grande. Le uniche azioni che diventano trampolini di lancio al successo sono quelle basate sul pensiero in grande. A proposito di avere progetti ambiziosi, Gary Keller e Jay Papasan ci dicono chiaramente che chi ha avuto successo ha puntato in alto, molto in alto. Al liceo, il mio professore di filosofia, parlando di voti, diceva che se punti a 10, male che vada, prenderai 8, ma se punti a 8, male che vada, prenderai 6, tanto vale quindi puntare a 10. È un concetto molto semplice, quasi banale, ma non si può assolutamente dargli torto. Il mio professore di filosofia era un figo, quindi se miri in alto non è detto che tu ci arrivi, ma se miri in basso di sicuro arriverai a meno di quello che avresti ottenuto se puntavi più in alto. Perché succede questo? Semplice, perché ti impegni di più. Nessuno di noi conosce davvero i propri limiti, nessuno sa davvero qual è il massimo a cui può arrivare. Lo confermano storie di campioni che hanno raggiunto risultati eccezionali contro ogni previsione. Tanto vale quindi puntare in alto, non c'è dubbio. Ma come si conciliano tutti questi pensieri ambiziosi di grandezza, di focalizzazione, di successo con un atteggiamento mindful come piace a me? La risposta, come avevo accennato prima, è proprio nel tra virgolette godersi il viaggio, cioè godersi il processo. È giusto avere dei progetti ambiziosi e io stessa ne ho? Mi piace molto averli, mi piace perseguirli, impegnarmi al massimo, ma nello stesso tempo ricordiamoci tra virgolette le altre quattro palline e cerchiamo di mantenere tutto in equilibrio per stare bene noi stessi mentre siamo nel viaggio verso l'obiettivo che vogliamo raggiungere e anche nel viaggio chiamato vita. Bene, ma qual è il mio voto a questo libro una cosa sola? Il mio voto è 4 stelline su 5. È un libro interessante secondo me, però come molti libri americani di questo tipo è un po' ripetitivo. Il concetto di una cosa sola ce l'hanno proprio sviscerato in tutte le salse, ma d'altronde se volevano passare questo concetto ce l'hanno fatta, direi. Ma ora veniamo a cosa leggeremo nel prossimo Mindful Book Club. Ti anticipo che avrai non uno ma ben due mesi per leggere il prossimo libro. Infatti il prossimo club del libro con relativa discussione finale si terrà a novembre. L'argomento a cui ci dedicheremo durante quel mese è il decluttering, quindi parleremo di spazi, della casa e ci sarà una super sorpresa bellissima. D'altronde siamo a fine anno ed è giusto buttare il vecchio per fare spazio a qualcosa di nuovo. Il libro che leggeremo si intitola Fai spazio nella tua vita di Fumio Sasaki. Da molti è considerato un manifesto del minimalismo. Non vorremmo mica farcelo scappare ovviamente, ma c'è anche un ma. Ho scelto questo libro perché immagino che tutti noi abbiamo letto il famosissimo libro Il magico potere del riordino di Marie Kondo. Si tratta di un libro best seller incredibile tradotto in tutte le lingue ed è quasi impossibile o comunque difficile che noi non l'abbiamo letto. Però se per qualche motivo tu rientri tra le persone che non ha letto quel libro io ti consiglio di leggere anche quello è davvero brevissimo perché sicuramente durante il book club faremo dei riferimenti anche a quel libro che a me era piaciuto tantissimo è molto particolare ci sono sicuramente dei pro e dei contro ma è davvero un bel libro ed è un libro un po' magico quindi mi piace. Ora tocca a te vorrei sapere se hai partecipato a questo mindful book club di una cosa sola hai intenzione di partecipare al prossimo con il libro fai spazio nella tua vita e se ti interessa partecipare mi raccomando di iscriverti al link e anche di farmi sapere che cosa pensi di questo libro una cosa sola di cui abbiamo parlato se hai già trovato la tua cosa sola o sei ancora in difficoltà. ti aspetto per sapere tutto tutto questo sono curiosissima scrivimi nei commenti io vengo a leggerti e ti rispondo subito ciao